buongiorno a tutti questa breve diretta sarà per farvi vedere le nostre passamanerie perché ci siamo accorti che non mi abbiamo mai fatto vedere le passamanerie quindi iniziamo da questi che sono dei fiorellini disponibili in panna nero bianco beige blu e rosso questi possono essere messi nei costumi nelle maglie sia come rifinitura che come abbellimento questa è una treccia bordeaux e dorata spero che riuscite a vederla questo qua andiamo già sull'etnico perché per l'estate bisogna usare un pochino questo è un bordo elastico quindi sia per allungare che per anche qui come rifinitura questi sono degli specchietti molto etnici disponibili sia base bianca che base nera ecco qua questo per le borse accessori per le coffe per cappelli questa è una frangia adesso sono legate ma sono tutte frange base nera continuiamo sempre con il chiaro con questo bordo sfrangiato sia sul nero che sul bianco base colorata molto vivace e molto estivo questa è una frangetta ecco qua con le perline questi vanno sempre a metratura e quindi sia per gli amici vicini che quelli lontani ve li facciamo vedere per benino questo è un bordo sempre così sia multicolor che sui toni del blu invece questi bellissimi bordi base blu e base bianco sempre con gli specchietti anche questo è un giubbettino di jeans su una borsa e quant'altro poi andiamo sulla base nera ecco qua qui si apre un mondo allora ci abbiamo dei delle rifiniture che richiamano sembra una cerniera ecco qua sia sul canna di fucile questo è l'argento e ce l'abbiamo anche sull'oro eccolo qua poi questa pure è bellissimo questi sono dei fiori che possono mettere se possono anche dividere e magari usate anche come toppette o come applicazioni ma adesso vanno tanto poi questo è una fila di strass di swarovski ecco qua questa è una bella banda in tulle sia per allargare che per rifinire questo è un pizzo elastico alto ben 18 cm un ottimo prezzo questa è una treccia che è disponibile anche sull'oro poi la vedremo e questa richiama un pochino gli specchietti che abbiamo visto poco fa anche questa multicolor molto bella sia l'abbigliamento che sugli accessori questo è sempre un bordo plissettato elastico quindi richiama un po' una rete e poi andiamo su questo bordo che personalmente mi piace molto ecco qua pensate anche una borsa di paglia una borsa ad uncinetto e quant'altro i dettagli sono sempre quelli che fanno la differenza altrimenti ci vestiremo tutti uguali ecco qua io continuo la carrellata poi comunque sapete ormai che spediamo in tutta italia se vedete qualcosa di vostro gradimento potete mandarci un messaggino sulla nostra pagina facebook alcuna matata merceria ancona oppure su whatsapp al 349 465 6229 questa frangia così l'abbiamo vista già anche sui toni del blue jeans eccola qua è lo stesso e credo ci sia anche se non erro sui toni del beige rosa poi se la trovo ve lo ricordo questa è una frangia bella lunga non è facile trovarle così questi sono mi sembra 15 centimetri poi questi vabbè perline varie applicazioni questo è un bordo elastico anche qui carino nei pantaloni della tuta questi sono fiori con degli strass questi si vendono singolarmente poi andiamo questa che richiama un po' la foglia ecco qua poi vi rispondiamo questo richiama un pochino la foglia vediamolo sulla base bianca ecco qua molto bello questo è un bordino con le perline disponibile anche nel color panna questo è un bordo che richiama un pochino il macramè anche questo è molto bello dà molta importanza ovunque vada messo poi questo ecco qua il bordo è questo qui noi l'abbiamo usato anche come manico per una borsa delle borse a sacco che vanno adesso molto bello poi intanto se avete delle domande chiedete pure io vi faccio adesso una carrellata veloce andiamo sui toni del blu questo è un bel pizzo classico però sfrangiato come va adesso nei due lati quindi si può mettere o con una cucitura centrale oppure come bordo poi questo è un pizzo elastico sempre alto questa è una rifinitura proprio di tessuto di jeans eccola qua e poi questo è sempre un elastico carino una banda elastica anche questa è una gonna di tulle con questo bordo così e c'era anche nero però non lo vedo forse è già finito e questi sono dei fiorellini anche per una pochette per una comunione e quant'altro questo è un tessuto tipolino con il blu bellissimo molto estivo e questo è un elastico sempre così hanno anche la doppia funzione poi se ci torna utile sfruttiamo l'elastico altrimenti lo usiamo come rifinitura questa stessa cosa è bellissima anche come manico di una borsa con il paillette la base è blu non so se vedete e la treccia è verde un verdone poi andiamo sui beige quindi continuiamo adesso con l'estivo queste sono delle nappine carinissime sui toni del beige sempre a metratura l'abbiamo viste un po' ovunque poi questo è l'anno comunque dell'Urex già da un po' di tempo quindi questo è un bordo sfocato è un bordo che si possono mettere nelle maglie poi dopo le idee vengono da voi noi vi facciamo vedere le materie prime poi le elaborate ognuno magari ha a casa un maglione da ravvivare questo è lo stesso bordo se vi ricordate che abbiamo visto sul blu adesso l'abbiamo visto anche nero questo è uno sbiecchino quindi si può doppiare sui toni dell'oro oro chiaro questo è molto simpatico perché praticamente questo è elastico quindi si può usare come asola non so se riesco a farvelo vedere potete mettere un bottoncino dall'altro lato e chiudere come asolina quindi è comodo perché per chi fa le asole sa che è un po' complicatino questo è un bordino in iuta poi questa è una treccia sempre base oro e questo è il bordino oro che abbiamo visto prima nel color fumo canna di fucile ancora paillette un po' in tutte le salse sempre base chiara bordo bianco con rifinitura oro e questo è un elastico come quello che abbiamo visto blu questo è bianco e argento abbiamo quasi finito vi ho fatto vedere quasi tutto il più velocemente possibile ecco qua questa è una treccia molto carina anche questa poi in base a dove va messo ognuno lo può personalizzare questo è un bordo elastico quindi si può usare sia come bordo anche per i pantaloni sulla lunghezza della gamba esatto quindi se magari il pantalone rimane un pochino stretto con una banda così aiuta poi questo è ancora dei fiori che si possono usare anche come applicazioni singole questo è il bordino sul panna che abbiamo visto prima in nero e poi finisco con questa frangia è scamosciata non so se riuscite a vederla eccola qua è questa bellissima che questa l'ho messa in una delle borse perché mi ero innamorata leggerissima eccola qua vi faccio vedere come l'ho usata io ecco qua quindi una borsa semplicissima e ho dato un tocco diverso con questa frangia allora io penso che più o meno vi ho fatto vedere quasi tutto finisco con le frange proprio super estive carinissime per qualsiasi accessorio che sono questa qui super colorata questa magari più da accessorio che da abbigliamento però non è detto queste frange così vivaci ce le abbiamo in questo colore nel rosso bianco e blu invece le nappine più piccoline nella versione multicolor fluo quindi argento sì scusate arancione verde e rosa sì Sandra speriamo in tutta Italia se magari hai visto qualcosa puoi scriverci anche nella pagina facebook in privato così ti mandiamo anche delle foto più più dettagliate poi vi faccio vedere sempre finendo con le frange questa è la sfrangiosa dei nasi di mirta quindi abbiamo diversi colori adesso anche questa è chiusa però poi si apre si possono fare sia a livello di frange che anche dei fiori ci sono stati fatti è disponibile in giallo rosa fucsia arancione blu beige eccola qua e rosso ecco qua ragazzi abbiamo finito io spero che sia stato utile adesso rimettiamo a posto al volo e se avete qualsiasi domanda richiesta e insomma avete delle domande potete scriverci tranquillamente sulla nostra pagina oppure via mail per chi magari non è molto pratico è morena carloni chiocciolalibero.it questa è un'altra idea della sfrangiosa l'ultima che vi ho fatto vedere l'abbiamo messa qua nella borsa invece questi qua poi i pomponi non ve li ho fatti vedere però ne abbiamo un po' in tutti i colori questa è una delle prime rifiniture che vi ho fatto vedere che è questa qua l'abbiamo proposta nella mini coffa con i pomponcini con questo termino vi auguro buon pranzo e alla prossima diretta